Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Incisa Reggello. Sempre in direzione Bologna, incidente al chilometro 262 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Barbelino di Mugello. In A12, rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 15 in massa in direzione Rosignano. Spostandoci sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, personale sulla strada per lavori 3,24 km e 724 tra Empoli ed Empoli Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!